È un viaggio di musica e parole, quello ideato da un gruppo di astronomi dell'INAF di Bologna per raccontare l'evoluzione dell'universo attraverso il singolare punto di vista di un fotone creato nel momento del Big Bang e che ha viaggiato nello spazio e nel tempo fino a raggiungere la terra dei giorni nostri. Ma non è un fotone qualunque il nostro protagonista e si fa chiamare per nome. Salve, sono Joe e sono un fotone. Sono Joe, il fotone. Ehi, guarda lì! Qualcosa si muove! Prima l'estate, poi sempre meno oggi, sentite luce! Questo è uno spettacolo musicale ricettato ed è la storia di un fotone che parte dall'inizio del Big Bang e arriva ai giorni nostri, con finale sorpresa, perché in realtà lui crede di essere stato catturato da un telescopio e finire in una pubblicazione scientifica, ma in realtà rimbalzerà su un semplice specchio. Ed i fotoni per le loro pubblicazioni scientifiche ne hanno catturati davvero tanti i componenti della band che accompagna il racconto di Joe, perché si tratta di astronomi veri, tutti accomunati dalla passione per la divulgazione dell'astronomia e dall'amore per la musica blues. La nostra è una Big Bang formata da 12 elementi, abbiamo Margherita Taglia alle tastiere, abbiamo Marulli e Sollima ai sax, abbiamo Coccozza alla voce, abbiamo Fernanda Petracca al basso, le tre coriste Loredana Lovisi, Stefania Varano e Laura Schreiber, Francesco Poppi alla chitarra, Carlo Gioccoli alla chitarra e poi abbiamo Matteo Correnti lì dietro alla batteria.